Si apre uno spiraglio sulla stabilizzazione del personale sanitario. Dopo i sit-in del mese scorso davanti all'assessorato regionale, la Commissione Sanità ha dato parere favorevole sul progetto di legge e disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti di servizio sanitario regionale. Soddisfazione da parte dei consiglieri abruzzesi del Partito Democratico. Si applicherà la norma Madia che prevede la stabilizzazione per mezzo di concorso riservato nella misura del 50% per tutte quelle persone che hanno fatto un contratto a tempo determinato per almeno tre anni negli ultimi otto. È una norma molto importante perché permette la stabilizzazione di tante persone che da anni lavorano nel mondo della sanità, ma è una norma molto importante anche per la regione Abruzzo perché consente di mettere a regime tante professionalità esperenziali che si sono maturate nel corso di questi anni. Andremo fino in fondo per questa battaglia che è un sacrosanto diritto per quanto riguarda i lavoratori e dovere della regione. Salvaguardare le maestranze, la loro esperienza, portano avanti interi reparti e tantissimi servizi. Il nostro obiettivo è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale per la Regione Lazio, è affiancare i lavoratori sostenendoli in un percorso di riconoscimento della loro esperienza. La legge che darebbe una boccata d'ossigeno a tantissimi precari nelle aziende sanitarie potrebbe essere approvata dal Consiglio regionale abruzzese entro fine mese. Martedì prossimo è l'ora della verità, ci sarà l'aggiunta regionale e l'assessore alla sanità. Presto, entro fine mese, porteremo la legge ad essere approvata dal Consiglio regionale.